Non ci hanno ascoltato e di conseguenza abbiamo dovuto procedere nelle sende opportune perché comunque il nostro focus è sempre la tutela dei nostri associati. Un dialogo sempre più complesso, uno scontro, quello tra commercianti e comune che si arricchisce di un nuovo capitolo. A metterlo nero su bianco la Regione, che proprio su sollecito di Confcommercio Bassano ha chiesto una delucidazione a Venezia sull'iter seguito per l'approvazione del progetto dell'area Pengo. Con la nota del 31 di maggio la Regione sostanzialmente ha dato ragione alla Confcommercio di Bassano perché si è espressa letteralmente dicendo che la delibera adottata in seno al Consiglio Comunale è stata posta in essere in violazione dell'articolo 16 della legge del 29 dicembre 2017. La nuova normativa impone un coordinamento tra i comuni per determinate strutture di vendita. Ad essere esentate solo quelle già dotate degli strumenti urbanistici. La Regione ha espressamente affermato che sono privi di fondamenta le premesse quanto sostenuto nella delibera del Consiglio Comunale dove si afferma che l'area Pengo è esentata dall'applicazione di tale normativa solo per il fatto che era stato concluso e approvato l'accordo pubblico privato. Una misura insufficiente secondo la Regione. Una risposta che ovviamente ci infonde una speranza per il futuro che ad oggi non sappiamo cosa potrà succedere perché lo si vedrà in seno al TAR dove è stato depositato un ricorso avverso appunto questa variante sperando che venga annullata e le speranze vengono anche riposte in seno alla provincia. Proprio alla provincia di Vicenza la Regione ha chiesto ora un'ulteriore valutazione insomma se per il progetto dell'area Pengo la strada appare in salita neppure quella del dialogo tra Confcommercio e Comune appare in discesa.